Bene, in questa lezione parleremo di diversi argomenti. Il primo argomento sarà l'epitelio di rivestimento composto e poi nella seconda parte vedremo l'epitelio sensoriale. Facciamo quindi prima una panoramica del tessuto epiteliale. Il tessuto epiteliale si divide in tre gruppi. Il tessuto epiteliale di rivestimento, il tessuto epiteliale sensoriale e il tessuto epiteliale ghiandolare. Il tessuto epiteliale di rivestimento comprende a sua volta gli epiteli di rivestimento semplici, cioè formati da un unico strato di cellule, e gli epiteli di rivestimento composti, formati da due o più strati di cellule. A seconda della forma, poi, e del tipo di cellule, abbiamo diverse varianti sia di epiteli di rivestimento semplici che di epiteli di rivestimento composti. Soffermiamoci sull'epitelio pavimentoso composto. L'epitelio pavimentoso composto è un epitelio formato da più strati di cellule di forma appiattita, anche se in realtà vedremo che alcune cellule possono avere non una forma propriamente appiattita, ma un po' più poliedrica. Esiste in due varianti, l'epitelio pavimentoso composto cornificato e l'epitelio pavimentoso composto non cornificato. L'epitelio pavimentoso composto cornificato è stato già affrontato nella scorsa lezione, quindi adesso ci soffermiamo sulla variante non cornificata. L'epitelio pavimentoso composto non cornificato è formato a diversi strati di cellule. Questi strati sono andando dalla membrana basale verso il lume. Lo strato basale, formato quindi da cellule in attiva proliferazione, e per questo appunto più ricche di materiale ribonucleico all'interno del citoplasma e per questo più scure, ha una classica colorazione notossilinosia. Uno strato spinoso, quindi che è lo strato intermedio, e lo strato superficiale, che presenta appunto delle cellule che in pian piano iniziano a desquamare. Proprio per la sua struttura, l'epitelio pavimentoso composto non cornificato si presta bene ad avere una funzione di resistenza meccanica, cioè è situato in tutte quelle cavità interne del nostro corpo che hanno bisogno di una certa resistenza di stress meccanici. Quali sono ad esempio queste cavità? La bocca, quindi tutto il palato, è tappezzato da questo tipo di epitelio. Ho anche la vagina, che è particolarmente tappezzata da questo tipo di epitelio ed ha una variante diversa. Infatti nella vagina l'epitelio di rivestimento è sempre pavimentoso composto non cornificato, però le cellule sono molto idratate, quindi questo dà al tessuto una consistenza più molle, senza comunque togliergli la resistenza meccanica. Quindi l'epitelio pavimentoso composto non cornificato è un precedente, un antenato, tra virgolette, della variante cornificata e va a svolgere delle funzioni simili alla variante cornificata, però nelle cavità interne del nostro corpo, ovvero in tutte quelle cavità che appunto sono sottoposte a dei forti stress meccanici. Vediamo alla microscopia come appare l'epitelio pavimentoso composto non cornificato. Vediamo appunto diversi strati di cellule. Questo tipo di vetrino è proprio un vetrino di epitelio vaginale, in cui appunto si possono vedere le cellule, i nuclei delle cellule, con un grosso citoplasma attorno, che però è bianco. Perché è bianco? Perché in realtà quella era tutta acqua, acqua che durante le fasi di preparazione del campione è andata persa e che quindi adesso rimane come un cerchio bianco attorno. Notate anche che i nuclei sono presenti sino allo strato più superficiale, cosa che invece non succede nell'epitelio pavimentoso composto cornificato. Quindi per fare diagnosi di epitelio e per capire se questo epitelio è pavimentoso composto cornificato o pavimentoso composto non cornificato, bisogna sempre osservare lo strato più superficiale. Se sullo strato più superficiale voi vedete i nuclei, allora sicuramente è una variante non cornificata. Se invece non vedete i nuclei, quindi vi è questo strato corneo, questo strato evidente di cellule morte, allora è un epitelio pavimentoso composto cornificato. Ancora un'altra immagine, qui invece notate la differenza con l'immagine precedente, in cui c'è il citoplasma, quindi qui è un epitelio meno idratato rispetto a quello vaginale che abbiamo visto prima. Notate poi un'altra differenza. Man mano che si passa dalla base verso la superficie, la quantità di nuclei diventa sempre minore. Questo vi fa capire appunto la funzione dello strato basale dell'epitelio pavimentoso non cornificato, che è poi quella di tutti gli epitelio composti. Cioè lo strato basale è sempre uno strato proliferativo, uno strato che fornisce appunto nuovi elementi all'epitelio stesso. Ancora qui vedete appunto la variante, la diversa forma che le cellule hanno. Si passa dalla parte diciamo più profonda dello strato basale, dove le cellule hanno una forma quasi cilindrica. Nello strato spinoso hanno una forma più allungata, nello strato superficiale sono appiattite. Questo perché? Per due motivi. Innanzitutto perché man mano che si va verso l'alto, le cellule più lontane dal connettivo ricevono un nutrimento minore rispetto a quelle che stanno a pieno contatto. E quindi questo porta la cellula a ridurre il proprio metabolismo, cioè a fare il minimo e l'indispensabile. Riducendo il proprio metabolismo, il citoplasma si riduce, la cellula si appiattisce e si allunga. L'altro motivo per cui c'è questa differenza di forma tra gli strati più basali e gli strati più superficiali, sta nel fatto che le cellule che vanno verso l'alto, proprio per il loro metabolismo diverso, non sono più in attiva proliferazione. E quindi i nuclei sono di meno verso l'alto, infatti appunto vedete che sono nuclei sempre più sottili, e le cellule tendono sempre di più a desquamare, quindi a staccarsi dall'epitelio. Ancora qui un'altra immagine, proprio dove vedete sempre nello strato più profondo tanti nuclei e poi verso l'alto i nuclei che sono sempre di meno, e qui anche vedete le cellule desquamate, che comunque mantengono sempre il nucleo. Quest'altra immagine è sempre un epitelio un po' più sottile, e qui si vede proprio la differenza nel tipo di nuclei tra lo strato basale e lo strato più superficiale. E questo è un epitelio più spesso, dove appunto si può ancora vedere la differenza fra il numero di nuclei, dello strato basale e dello strato superficiale. Bene, adesso passiamo ad analizzare l'epitelio cubico composto. L'epitelio cubico composto è formato da più strati di cellule cubiche. In realtà questi strati sono sempre due, massimo tre. Non troveremo mai epiteli cubici composti che hanno un numero di strati come quelli di un epitelio pavimentoso composto. Quindi è semplice distinguere i tipi di epiteli vedendo semplicemente il numero di strati. E' un epitelio molto raro che troviamo soltanto a livello di alcuni dotti escretori e di poche altre strutture del nostro corpo. Vediamo appunto queste immagini in cui appunto sulla sinistra c'è un disegno in cui è dimostrata, diciamo, la struttura dell'epitelio cubico composto. Sulla destra invece c'è proprio il riscontro alla microscopia. In queste altre immagini appunto si vede proprio il doppio strato di cellule. Ancora anche qui due strati di cellule cubiche e qui ancora. Qui ora è ben evidente appunto il doppio strato, uno più interno e uno più esterno. Qui ancora vediamo uno strato di cellule cubiche e poi subito sotto un altro. Come vedete sono sempre due, massimo tre strati. Non saranno mai più di questi. E ancora qui l'epitelio cubico composto. Bene, passiamo adesso a un altro epitelio che è l'epitelio cilindrico composto. Sull'epitelio cilindrico composto c'è poco da dire. È formato sempre da più strati di cellule cilindriche, quindi disposte una sopra l'altra e quindi è ben distinguibile da un epitelio pseudostratificato perché vedete i due strati di nuclei nettamente separati tra di loro. L'epitelio cilindrico composto può presentare anche le ciglia e quindi in questo caso è detto appunto cigliato. Vediamo qualche immagine. Qui si distinguono bene i due strati di cellule e sulla versante apicale delle cellule appunto vedete le ciglia. Anche qui due strati di nuclei e poi sulla parte più apicale le ciglia. E qui ancora proprio il classico aspetto. Notate la differenza con lo pseudostratificato. Qui i nuclei sono su due strati diversi. Nello pseudostratificato sembravano un unico strato. E ancora qui i due strati. Vediamo quindi una variante di epitelio composti che è appunto l'urotelio, o anche detto epitelio di transizione. L'urotelio è forse il più particolare degli epitelio composti proprio per la sua struttura. Infatti esso è formato da tre strati di cellule che poggiano sulla membrana basale. Il primo strato è lo strato basale quindi sempre lo stesso discorso. Per ogni epitelio composto c'è sempre uno strato basale di cellule proliferative cioè che rimpiazzano gli elementi che stanno sopra. Poi c'è lo strato delle cellule a clava cioè le cellule che sembrano appunto di forma clava disposte su uno strato intermedio e sullo strato più superficiale ci sono le cellule a ombrello cioè delle cellule che appunto hanno questa forma a ombrello e che talvolta possono anche presentare, aver presente i più nuclei. Adesso, perché l'urotelio è così stratificato? Perché presenta tutti questi strati? Per la sua funzione. L'urotelio, infatti, è l'epitelio di rivestimento che tappezza le vie urinarie cioè tutti quei condotti che portano l'urina quindi il prodotto dei reni dai reni fino all'esterno. Quindi dai reni fuoriescono i due ureteri i due ureteri portano l'urina alla vescica dalla vescica poi l'urina attraverso un altro condotto che si chiama uretra esce all'esterno. Adesso qual è il problema? Il problema è che l'urina è una sostanza ipertonica proprio perché ci sono molti soluti disciolti al suo interno è una sostanza ad alte concentrazioni. Se l'epitelio di rivestimento le vie urinarie fosse un epitelio molto sottile cosa accadrebbe? Accadrebbe che per osmosi l'acqua tenderebbe a uscire dalle cellule e ad andare nell'urina quindi in questo modo si avrebbe una rottura dei tessuti. L'urotelio ha proprio questa funzione cioè lui deve impedire che questo accada e come lo impedisce? Innanzitutto con una ricca stratificazione infatti è un epitelio molto stratificato e in secundis perché nello strato più superficiale produce delle sostanze che vanno a formare uno strato impermeabile cioè le cellule ombrello producono delle sostanze che impermeabilizzano l'epitelio e quindi è come se ci fosse una membrana impermeabile che divide nettamente il compartimento in cui passa l'urina dal compartimento della paritela viurinaria. In questo modo l'urina non può creare danni al nostro organismo quindi è questa l'importante funzione dell'urotelio. È l'epitelio più impermeabile del nostro corpo addirittura più impermeabile dell'epitelio pavimentoso composto cornificato. Adesso l'epitelio di transizione appunto o urotelio ha una caratteristica peculiare che possiamo vedere a livello della vescica. Se noi analizziamo la vescica quando è vuota o quando è piena vediamo che l'epitelio di rivestimento appunto l'urotelio tende quasi a cambiare forma. Quando la vescica è vuota noi potremo vedere appunto il classico aspetto dell'urotelio quindi cellule basali, cellule a clave e cellule a ombrello. Quando invece la vescica è distesa e quindi è piena vediamo che invece queste cellule sono più appiattite ci sembra quasi di vedere un epitelio pavimentoso composto ma formato da pochi strati. Perché questo accade? Questo accade perché nella vescica vuota le cellule presentano a livello della loro membrana delle invaginazioni che prendono il nome di vescicole lenticolari sono delle vere e proprie invaginazioni di membrana. Che succede a queste vescicole lenticolari? Quando la vescica si sta riempiendo le vescicole si stendono e quindi stendendosi che succede? Che in realtà l'epitelio si allunga cioè le cellule si allungano allungandosi però anche se appiattiscono e quindi che succede? Che la vescica crea sempre più spazio con il quale può accogliere l'urina che è sempre maggiore. Ovviamente però che succede? Che allungandosi le cellule scivolano le une sulle altre e quindi dall'avere i tre strati ben distinti noi possiamo avere due strati di cellule appiattite che non ci sembra un epitelio appunto di transizione ma ci sembra altro. Questo è dovuto proprio al fatto che la vescica deve accogliere quanta più urina possibile. Vediamo alcune immagini adesso alla microscopia di urotelio qui possiamo pronto vedere i tre strati che lo compongono basale, acclave e ombrello e qui ancora quindi i tre classici strati. Qui è bene evidente appunto la struttura e riconosciamo anche alcune cellule ombrello con più nuclei e questa immagine è molto interessante perché ci mette a conto nella parte alta l'epitelio della vescica quindi l'urotelio della vescica quando la vescica è piena nella parte bassa invece quando è rilassata quindi vedete appunto che c'è questa differenza proprio a livello morfologico. Qui ancora un'altra diciamo struttura struttura e qui ancora urotelio quindi appunto in cui si vedono i diversi strati di cellule. Qui è ancora ben evidente appunto cellule aclava e cellule superficiali. In questa colorazione di alzammallori vediamo appunto la lamina propria nella parte sottostante e poi superiormente i tre strati dell'urotelio o perché adesso c'è un'immagine di epitelio cilindrico composto? Perché spesso può accadere che l'epitelio dell'urotelio quindi l'epitelio di transizione venga confuso con un cilindrico composto. Come si fa a capire se effettivamente è solamente un cilindrico composto o un urotelio? Innanzitutto si cerca di esaminare i nuclei perché se ci saranno le cellule a ombrello quindi se è un urotelio sicuramente ci saranno delle cellule che hanno più nuclei. E secondo dettaglio molto importante si vede il versante epicale perché l'urotelio non ha mai le ciglia il cilindrico composto sì quindi se sospettate che sia urotelio ma poi vedete delle ciglia superiormente capite che non state vedendo un urotelio. Bene per concludere adesso il discorso sugli epiteri di rivestimento dobbiamo parlare della rigenerazione del tessuto epiteliale. Che cos'è la rigenerazione? La rigenerazione è un processo che coinvolge tutti i tessuti del nostro corpo tranne il tessuto nervoso. Cioè rigenerazione significa rimpiazzare gli elementi cellulari. Le cellule epiteliali sono tra le cellule più rigeneranti cioè sono cellule in continuo mutamento e in continuo rimaneggiamento. La rigenerazione del tessuto epiteliale avviene in tempi diversi quindi a seconda del distretto che noi prendiamo può avvenire in periodi diversi. Questo è ovvio il motivo. Ci sono alcune cellule epiteliali come cellule dell'urotelio o come cellule degli alveoli polmonari che comunque non hanno bisogno di un ricambio eccessivo come ne hanno bisogno invece sempre in attiva funzione ed infatti la rigenerazione è proprio più veloce nelle cellule dell'intestino due o quattro giorni per rimpiazzare l'intero epitelio. Esistono poi due popolazioni staminali cioè due gruppi di cellule staminali da cui derivano gli elementi poiché formano le cellule epiteliali. Un primo gruppo è formato da cellule a riposo cioè cellule quiescenti che non sono ancora attive e queste sono raccolte in uno spazio che forma la nicchia specializzata. Un altro gruppo di cellule invece è formato da cellule che sono in attiva proliferazione cioè sono cellule che continuamente si dividono e quindi danno origine a nuovi elementi cellulari. Bene parliamo adesso dell'altro argomento di questa lezione ovvero l'epitelio sensoriale. Andiamo sempre alla classificazione adesso abbiamo abbandonato il gruppo del tessuto epiteliale di rivestimento e analizziamo il tessuto epiteliale sensoriale quindi il secondo tipo di tessuto epiteliale. Il tessuto epiteliale sensoriale è formato da elementi cellulari che fanno dei intermediari fra gli stimoli esterni e il tessuto nervoso. Come sappiamo e come si può ben intuire il tessuto nervoso ha diverse funzioni una di queste è quella appunto di recepire gli stimoli esterni. Talvolta lo può fare autonomamente altre volte si serve appunto di alcune cellule specializzate. Queste cellule sono cellule di natura epiteliale e sono appunto le cellule sensoriali quindi è come se ci fosse un'antenna in queste cellule che loro percepiscono e poi trasmettono alle cellule del tessuto nervoso. Un primo esempio di cellule sensoriali quindi epitelio sensoriale sono le cellule gustative. Le cellule gustative sono particolari cellule disposte nell'epitelio della lingua e che sono appunto deputate alla percezione del gusto. Se noi prendiamo una particolare zona della lingua che prende il nome di papilla e la ingrandiamo sempre di più fino appunto a evidenziare l'epitelio vediamo che nell'epitelio sono presenti delle strutture formate da più cellule che hanno una forma di calici appunto vengono chiamati calici gustativi. I calici gustativi sono formati da elementi cellulari sensoriali che grazie a delle estroflessioni della membrana che sono per lo più ciglia riescono a percepire appunto degli stimoli esterni in questo caso il gusto e a trasmetterli alle determinazioni nervose che vi sono all'interno di queste cellule cioè che abbracciano queste cellule. Questo è il classico aspetto di un calice gustativo all'interno dell'epitelio della lingua. Un altro esempio di epitelio sensoriale è l'organo del corti. L'organo del corti è un organo perché? Perché è formato da due tipi di tessuti appunto la componente epiteliale sensoriale e la componente nervosa quindi che fa parte del sistema nervoso. È un organo situato all'interno dell'orecchio quindi in particolare nell'orecchio interno quindi nell'orecchio più profondo e nella in particolare nella chiocciola o copia cioè nella zona in cui viene recepito il segnale uditivo. Cosa fa quindi l'organo del corti? Le cellule sensoriali che qui vedete appunto in arancione sono legate attraverso delle ciglia a una struttura che è quella superiore che è la membrana tectoria. Questa membrana cosa fa? Nel momento in cui viene una vibrazione dall'orecchio quindi che arriva uno stimolo uditivo vibra e vibrando fa muovere le ciglia queste ciglia muovendosi creano un segnale che arriva alle strutture in azzurro che sono le terminazioni nervose del nervo uditivo e quindi vengono poi trasmesse al cervello quindi è responsabile del riuscire ad ascoltare quindi è quello che ci permette di ascoltare. Questo è l'aspetto esterno appunto in cui vediamo appunto le ciglia tipiche appunto dell'organo del corti e qui appunto vari organi del corti messi l'un a fianco all'altro. L'organo del corti è quello che può anche determinare a seguito ovviamente di traumi una perdita parziale o totale dell'udito. Questa cosa è dovuta alla perdita dell'udito? Al fatto che queste cellule muoiono quindi le cellule che producono l'organo del corti con loro muoiono anche le ciglia e quindi non c'è più questa trasmissione di segnale uditivo. Un ultimo gruppo di cellule sempre di epitelio sensoriale sono le cellule della macula acustica che sono disposte sempre nell'orecchio interno ma non nella chiocciola ma bensì nei cannali vessibolari cioè in quelle strutture disposte appunto a formare quelle specie di C tutte insieme. Qual è il ruolo delle cellule della macula acustica? Sono le cellule dell'equilibrio ci sono delle cellule che riescono a percepire proprio grazie ai loro prolungamenti i movimenti del nostro corpo e quindi riescono a dare equilibrio al nostro corpo.